ok allora sono le 5 buonasera a tutti buon pomeriggio aspettiamo ancora qualche qualche minuto per permettere agli altri di collegarsi ho avuto qualche problema tecnico mai successo fin ad ora quindi vuol dire che l'argomento di cui parleremo è un argomento interessante chi capisce questo tipo di dinamiche potrà capirmi allora vediamo un po aspettiamo un attimo ancora qualche piccola prova tecnica e ci siamo questa sera saluta solo poi magari i prossimi libri vediamo di organizzare dirette con altri ospiti non ne mancano ancora molti dobbiamo ancora parlare del dobbiamo ancora parlare di nitrodi e vediamo un po come come poter organizzare anche le altre presentazioni allora si stanno iniziando a collegare i nostri amici ricordiamo che la la diretta di questa sera è incentrata su un libro di cui non abbiamo parlato pubblicamente a ischia si tratta del libro trattato spirituale sulle acque dell'isola di ischia è un bel librone di oltre 400 pagine non siamo ancora stati in grado di organizzare una presentazione pubblica anche perché non è un libro come si suol dire per tutti è un libro a carattere esoterico può essere letto come come una guida quindi a breve ancora un paio di minuti parleremo proprio di questo di questo lavoro che tra l'altro tra l'altro ha avuto anche una seconda edizione perché abbiamo abbiamo seguito il consiglio di alcuni lettori abbiamo reso più snelli alcuni paragrafi abbiamo corretto degli errori di battitura che purtroppo ci sono sempre ed aggiunto piccole piccole parti comunque si può dire che tra la prima e la seconda edizione non ci non ci sono grosse differenze ed è un libro che già da quando uscì ha creato ha creato qualche piccolo problemino non tanto per il suo contenuto ma per il prezzo il prezzo attualmente il prezzo you can print attualmente di 25 euro ovviamente sulle nelle librerie sulle piattaforme online è possibile anche trovarlo scontato quello che non non mi riesco a spiegare e quanto possa possa costare un libro di oltre 400 pagine di questo genere noi l'abbiamo messo al prezzo più basso di mercato comunque non è la polemica la fine è finita allora vediamo un po 1703 aspettiamo ancora un minutino e poi iniziamo con il parlare di questo di questo libro cerchiamo di capire cosa c'è scritto al suo interno che argomenti affrontiamo e soprattutto perché è così importante io mi sono penso mi sono messo qualche piccolo post it per per evidenziare delle pagine importanti senza perdere il filo del discorso altrimenti non ce ne saremmo non ce ne saremmo più usciti allora buonasera ilenia buonasera anche a te vediamo un po aspettiamo gli amici gli amici dell'associazione poi e poi proseguiamo e vi ricordo i contatti dell'associazione luce e verità la nostra associazione culturale nel mentre la potete trovare tranquillamente su facebook in internet anche abbiamo un blog ciao patrizia anche a te abbiamo una pagina un blog abbiamo una pagina facebook e tra l'altro è parallelo al sito di epomeo figlio di agarti anche quest'ultimo è un blog ma è anche una pagina è una pagina facebook allora io direi direi di partire così snelliamo un po la presentazione anche perché vi ripeto il libro è bello grande ne avremo di cose di cui parlare allora è un libro a carattere esoterico però può essere può essere letto anche come una guida perché perché noi in questo libro affrontiamo tutte le sorgenti d'acqua e schitane conosciute e dimenticate e lo facciamo principalmente dividendo dividendo il nostro lavoro in in base al comune in cui l'acqua è possibile trovarla la sorgente d'acqua che possa che possa trattarsi di della sorgente di una sorgente comune o inglobata all'interno di una struttura alberghiera ditemi se si sente bene la voce ciao anche a te maria ben arrivato allora quindi abbiamo detto che il libro è diviso per comuni e noi noi partiamo con una bellissima con una bellissima citazione del duca fucceri camerini tratto dal libro botticelli il giardino del negombo è del 2014 un bellissimo libro che parla della parco termale del negombo e ci mi piace mi è piaciuta questa questa citazione l'ho introdotta qui nel nel libro come come nota iniziale l'acqua che nasce nel sottosuolo accade dall'alto sgorga dalla roccia si raccoglie in pozzi o si trova all'interno di una grotta la sua presenza deve essere deve sempre accogliere non deve mai essere pericolosa o ispirare paura questa è una bellissima frase che va a fare anche da da nota introduttiva quindi al tutto il discorso di cui di cui parleremo allora l'introduzione noi praticamente oltre a parlare delle singole sorgenti d'acqua e delle strutture alberghiere associate ad esse ne diamo anche una una parte storica perché alcune sono molto famose lo sono stati anche in tempi in tempi antichi basti citare la sorgente di cavascura o quella di nitrodi ma anche quella del del gurgitello a casa inizio a piazza bagno quindi introduciamo un po quelle che quello che quello che gli scrittori gli scrittori antichi hanno hanno evidenziato al riguardo di queste sorgenti più famose rispetto alle altre quindi poi tratteremo anche degli scritti di giulio jasolino nel stiamo parlando del suo dei rimedi naturali allora una breve introduzione quindi storica e doverosa anche per far capire l'importanza delle sorgenti d'acqua dell'isola d'ischia che non sono poche attenzione noi poi ve ne accorgerete durante la presentazione i nostri autori classici si sono soffermati quindi su cavascura sul gurgitello nitrodi o mitello tutte sorgenti che avevano delle caratteristiche particolari come il poter agire sui 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 calcoli oppure come quella del gurgitello in grado di risucchiare la fatica e la stanchezza da coloro che si immergevano nelle sue acque quindi queste caratteristiche molto particolari hanno stuzzicato la curiosità di quegli antichi scrittori e poi il discorso è stato ripreso nei secoli successivi quello che a noi ci preme innanzitutto puntualizzare è che l'isola fin da tempi antichi è sempre stata associata alla figura del dio Apollo quindi anche in questo caso le sorgenti le sorgenti d'acqua erano sotto la sua protezione per la stragrande maggioranza ma noi nelle nostre ricerche voi lo sapete abbiamo identificato questo questa figura questo dio Apollo con una particolare energia caratteristica del territorio la famosa energia micaelica che anche per ischia dona le sue le sue virtù perché abbiamo detto in precedenza che un un ramo di questa energia micaelica partirebbe dal santuario di san michele arcangelo al gargano e si spingerebbe fino a ischia ed oltre quindi gli antichi conoscevano benissimo le le divinità chiamiamole così caratterizzando il territorio isolano e per loro questa questa energia era il di Apollo quindi tutto ciò che rendeva che rendeva guarigione oppure era in grado di lavorare sia sui corpi fisici che i corpi sottili era comunque un un dono delle delle divinità allora un'altra cosa interessante per esempio che ho inserito nel libro è un pensiero di Vitruvio che in questo caso è perfettamente associabile a ciò di cui stiamo parlando perché Vitruvio scrisse che scrisse prima della della captazione o conduzione si osservi e si faccia attenzione alla conformazione corporea delle persone che abitano nei pressi di tali fonti d'acqua ovviamente questo è validissimo ancora oggi per quanto riguarda le sorgenti d'acqua ischitane in primis c'è la famosa sorgente di nitrodi già Iasolino si rese conto che questa sorgente d'acqua era era rendeva coloro che la utilizzavano con una pelle bellissima la gente viveva in media più anni rispetto al restante dalla restante popolazione ischitana ed erano sicuramente più belle le donne rispetto alle loro alle alle donne che abitavano il restante dell'isola questo perché perché secondo Iasolino quest'acqua e le sue proprietà erano in grado di agire sulla sulla pelle di coloro che la utilizzavano ma non sono argiva sia dal di fuori che dal di dentro vediamo un po' sì nell'introduzione continuiamo quindi ad esporre questi questi concetti approfondendoli e quindi cercando di trovare quante più informazioni storiche possibile non per niente poi questa famosa energia mica elica associata al di Apollo era rappresentata dal nostro punto di vista dalla cosiddetta svastica e sull'isola ne sono state trovate un bel po' quindi loro sapevano benissimo dove abitavano e come dove come costruire vediamo un po' durante il corso quindi della lettura diverrà chiaro che siamo tutti tenuti a contribuire all'equilibrio che il non manifesto ha fornito la sua creazione ma questo saranno le stesse sorgenti d'acqua a dircelo perché le sorgenti d'acqua che abbiamo interpellato sulla quale abbiamo fatto delle ricerche esoteriche sono tutti quanti della stessa dello stesso avviso cioè il il creato così concepito anche se è fuori dalla nostra portata umana è comunque in espansione e questa sua espansione è frutto anche del nostro lavoro perché essendo noi creatori abbiamo necessità di capire che la chiave di tutto è la consapevolezza cioè tutte le acque le acque sorgive schitane interpellate hanno detto tutti quanti la stessa cosa cioè la chiave di lettura per poter innescare questi processi di guarigione ma anche di evoluzione spirituale interiore è la consapevolezza infatti infatti la una un barlume di consapevolezza c'era almeno fino alla alla metà del nove del dello scorso secolo perché a ischia arrivavano genti da ogni da ogni dove perché erano erano sicure di poter trovare la guarigione in queste in queste acque non mancano poi tra l'altro gli articoli di giornale che che parlano di guarigioni avvenute grazie all'uso delle acque schitane c'era tutto c'era tutta una una scienza dietro queste guarigioni all'epoca i medici faceva una gara a collezionare questi questi casi e a studiarli allora vediamo un po allora avrete capito quindi che è un libro un libro a tutti gli effetti esoterico cioè immaginate di poter faccio un poco più semplice immaginate di poter di poter dialogare con l'acqua e quindi essere in grado di fargli delle domande e ricevere delle risposte immaginate quindi di allargare questo discorso a tutte le sorgenti d'acqua ischitane quindi vi lascio immaginare quanto lavoro c'è dietro questo questo libro e quindi il sesso è direttamente la sorgente d'acqua che è in grado di di fornirci informazioni al suo riguardo nei momenti in cui noi entriamo entriamo all'interno delle sue acque e stessa l'acqua che ci dice come utilizzarla quindi un bel passo avanti e tra l'altro siamo anche orgogliosi perché tutto ciò di cui parleremo in questo libro ci è stato ampiamente confermato da chi è venuto sull'isola ha provato queste esperienze prima ancora di leggere le nostre le nostre ricerche salutiamo tutti quelli che si stanno collegando in questo momento allora vediamo un po vediamo un po allora di portare avanti il discorso parleremo quindi di sorgenti d'acqua conosciute spesso inglobate all'interno di strutture alberghiere ma parleremo anche di sorgenti d'acqua perse dimenticate ma tuttora presenti perché nel momento in cui l'entità risponde e lo fa con amore lo fa a nostro beneficio vuol dire che l'acqua sorgiva è ancora presente sul nostro territorio ma per un motivo o nell'altro non è più utilizzata o non è possibile raggiungerla allora saltiamo il prologo perché il prologo non vi voglio rovinare la sorpresa e andiamo direttamente alle informazioni base sulla quale poggia tutto il lavoro allora queste informazioni ci vengono date direttamente da coloro che noi chiameremo le sorgenti d'acqua perché per approfondire un po più il discorso è vero che esiste la sorgente d'acqua ma esiste anche uno spirito un'entità che coordina e governa quel luogo e quindi è preposto al coordinamento di tutto il lavoro che si nasconde dietro la sorgente d'acqua non dovete non dovete immaginare un l'acqua con un semplice liquido in grado di riempire un recipiente assolutamente l'acqua va approcciata con consapevolezza in virtù anche di tutto ciò che riesce a fare allora e di fatti sono loro che specificano tre tre tipi di concetti innanzitutto abbiamo l'energia creatrice loro la chiamano energia creatrice cioè un'energia in grado di di nascere dal nostro essere nel momento in cui noi siamo consapevoli di quello che succede intorno a noi e di quello che riesce a a muovere le leggi del creato ovviamente siamo esseri umani non siamo in grado di sviscerarle tutte ma la presa di di consapevolezza poi è una cosa graduale e loro praticamente specificano che è una cosa necessaria affinché loro possono mettersi in moto e aiutarci cosa questo cosa vuole dire questo facciamo un esempio si va nelle si va nella presso la sorgente dell'olmitello la troviamo lì sgorga dalle dalle docce ci facciamo la doccia ecco quel tipo di di approccio lì è sbagliato cioè noi dobbiamo essere consapevoli di andare in un luogo sacro presso un'acqua sacra in grado di poter svolgere determinati lavori su di noi sul nostro corpo materiale ma anche sui nostri corpi invisibili cioè dobbiamo andarci con riverenza nel momento in cui andiamo con questa con questa mentalità state sicuri che con qualche cosa si va ad innescare e di fatti le energie creatici e creatrici loro specificano essere un particolare tipo di energia che di cui il nostro di cui la creazione ha bisogno tutti sono chiamati a creare tutti sono chiamati a portare avanti la creazione ad espandere il creato così come il non manifesto lo ha concepito di conseguenza una delle chiavi per accedere a questo lavoro è l'essere consapevoli che genera energie creatrici questo ci rende un qualche cosa che emette che emette soprattutto amore e luce che va a beneficio di anche di coloro che ci sono che ci che ci sono intorno poi introducono quindi il concetto di di consapevolezza e di conseguenza il concetto delle energie trasformatrici umane ovvero quelle energie create con il nostro pensiero come abbiamo detto siamo creatori di questo dobbiamo esserne consapevoli e quindi bisogna fare attenzione quando si pensa bisogna focalizzare il nostro pensiero quindi le energie sviluppate dal nostro corpo in giuste direzioni perché le acque ci tengono a specificare che siamo per natura esseri in grado di creare e siamo chiamati a creare quindi prima prenderemo consapevolezza di questo lavoro e meglio sarà e poi il nostro viaggio inizia dal primo comune in questione ovvero il comune di serrara fontana partiamo dalla zona di succhivo sant'angelo perché questo perché forse molti di voi non lo sanno ma a succhivo precisamente a cavagrado esiste una spiaggia molto molto particolare ora non voglio dire che ci sono acque più importanti di altre sull'isola d'ischia assolutamente no ogni acqua c'ha il suo compito e alla fine chiedono tutti la stessa cosa però ci sono delle acque che ci tengono a precisare di poter svolgere un lavoro supplementare e quindi di chiamare a raccolta coloro che ne sono interessati allora per ogni per ogni sorgente quindi abbiamo detto che daremo una parte storica anche per cavagrado quindi faremo la stessa cosa non so quanti di voi ci sono stati a cavagrado o l'hanno frequentata allora la cosa importante di cavagrado che è uscita fuori e che le sue acque sono in grado di di formare di per di permettere un collegamento tra noi quindi il nostro essere completo e le emanazioni del creato noi qua parliamo di concetti legati alla cabala ebraica quindi alle emanazioni ma anche alle entità angeliche che 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 operano e che abitano tra virgolette queste queste emanazioni quindi sono sono acque sono acque di luce nel senso che donano luce amore ci trasformano sempre grazie al giusto approccio ma come in questo caso sono in grado di svolgere un qualcosa di supplementare entrare consapevolmente quindi nelle acque di cavagrado significa per chi per chi dovesse riuscire ad interagire con questo tipo di energie significa entrare in contatto con con un tipo di energie provenienti provenienti dai mondi superiori in questo caso le emanazioni le acque di cavagrado allora se non avete ben ben presente la spiaggia cavagrado è tutto una sorgente cioè il bagnaschiuma il bagnasciuga è completamente completamente pieno di sorgenti che escono anche ad elevate temperature lungo la battiglia poi qualcuno negli anni addietro scavò una specie di vaschetta nel in un angolo della spiaggia che dipende dalla marea dipende dalla mareggiata si riempie di sabbia o no anche lì sgorga una una bellissima acqua termale poi la stessa cosa accade tutto lungo gli scogli che porteranno alla baia successiva sono tutte sono tutte vaschette scavate nella roccia e raggiugimbi specialmente a nuoto quindi in questo caso non c'è un non c'è il problema di andarsene a cercare è una cosa veramente veramente bella la sorgente queste questa 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 acqua è presente ovunque lì giù quindi non c'è non c'è nessun tipo di di problema salterò delle salterò delle delle strutture alberghiere perché grosso grosso modo possiamo possiamo considerarle allineate al discorso che abbiamo fatto in precedenza per quanto riguarda l'introduzione quindi passerò direttamente alle sorgenti d'acqua un po più particolari risaliamo siamo a succhivo e precisamente all'hotel casa giuseppina la sua acqua ci tiene a precisare che grazie ad essa trasporterei trasporteremo in terra quello che riceveremo e saremo in grado di donare amore e luce ai nostri simili questo per riprendere il discorso discorso precedente ovviamente se avete qualche domanda fatela pure non è non c'è nessun tipo di problema e arriviamo direttamente al al parco termale del tropical quindi abbiamo girato siamo ritornati indietro allora il parco termale tropical il messaggio relativo alle sue acque ci regala delle informazioni soprattutto di carattere storico oltre che spirituale ci tengono a precisare che loro furono create furono scoperte furono create case e costruiti umani luoghi per raccogliere le loro acque furono conosciuti da uomini antichi e sono vivi i loro ricordi e le loro trasformazioni e sia l'acqua del tropical che l'acqua della romantica sono stati generosi nel fornirci molte informazioni storiche in quanto secondo loro tutta quella zona fino a sant'angelo e poi verso i maronti era tutto un grande insediamento prima greco e poi romano perso nella notte nei tempi a causa di terremoti smottamenti e vari quindi se ne è perso il ricordo ma non tanto perché comunque la gente la gente sa quello che c'è stato in cui quello che si trova in quei luoghi e poi e poi passiamo scendendo verso sant'angelo ci dirigiamo all'hotel vulcano qui incontriamo un'altra particolare acqua l'hotel vulcano purtroppo adesso che osap è chiuso non si può accedere a queste queste acque tuttavia la sorgente c'è ha comunicato e questo è l'importante vuol dire che ancora esiste il nostro piano allora la caratteristica delle acque del dell'hotel vulcano a sant'angelo sono queste le acque in questione sembrano lavorare sulla creatività umana oltre che sullo sviluppo spirituale lo sviluppo creativo inteso come mezzo per giungere all'equilibrio tra spirito e corpo è tappa fondamentale per il corretto fluire di quelle energie creatrici delle quali il creato manifesto necessita cioè sono state le proprio le acque a dirci guardate che noi con il giusto approccio siamo in grado di lavorare sulla creatività umana e questa è una cosa molto interessante perché è una caratteristica che troviamo anche nelle acque dell'afrodite apollon che grosso modo sono di fronte all'hotel l'hotel vulcano quindi stiamo parlando di due di due acque chiamiamole così diverse ma con le stesse caratteristiche infatti l'acqua dell'apollon dice che è in grado di elevare le nostre vibrazioni favorendo il necessario per umane trasformazioni e tutte quante tutte le acque di cui andremo a parlare sono tutte quante concordi nel dire che sono volute grazie a volontà superiori quindi c'è tutto un piano dietro che ha voluto la nascita e lo sviluppo di queste sorgenti termali a favore della nostra crescita spirituale sull'isola d'ischia lo sviluppo della creatività personale viene amplificato grazie ad un lavoro sulle proprie virtù innate spesso trascurate o volutamente ignorate a beneficio di aspetti più pratici della nostra vita quindi cosa ci dicono queste acque in definitiva ci dicono che con il giusto approccio e con il loro aiuto la creatività umana viene sviluppata perché una delle dei tanti mezzi che abbiamo per diventare più consapevoli per per indirizzare le nostre attenzioni verso ciò che veramente è essenziale ed importante distogliendoci praticamente da quello che sono i vizi umani e i desideri umani vediamo un po quest'altra invece l'acqua di cavascura quindi abbiamo fatto un piccolo salto siamo arrivati a cavascura l'acqua di cavascura logicamente ricca di storia l'acqua di cavascura ne abbiamo già parlato in ischio occulta è un'acqua che fa parte delle cinque sorgenti di energie schitane delle ed è legata all'elemento terra anche in questo caso cavascura ci ha regalato molte informazioni storiche oltre al lavoro in grado di di compiere su noi stessi tra l'altro negli anni passati esisteva addirittura un cartello all'entrata delle terme di cavascura che recitava abbi fiducia in queste acque e guarirai mai cosa era più vera sperando che quel cartello verrà rimesso al suo posto quindi qualcuno infine alla fine qualcuno che aveva intuito qualcuno che sapeva c'è stato ma non è solo cavascura anche l'olmitello e anche altre anche sorgenti d'acqua allora le caratteristiche quindi dell'acqua di cavascura sono state ampiamente descritte in ischi occulta ne abbiamo parlato nella precedente una precedente pubblicazione nella precedente presentazione quindi basta andarsi a rileggere o a a vedere la presentazione per quanto riguarda la parte delle cinque sorgenti energetiche schitane e la trasformazione dell'elemento terra in ognuno di noi grazie alle acque di cavascura non per niente sono inserite in quel contesto geografico allora saltiamo l'acqua del ciglio e andiamo direttamente al comune di forio comune di forio ci legheremo a sorgeto dove un interessante messaggio ci dice che l'acqua di sorgeto è in grado di lavorare sul nostro trasporto emotivo cioè in poche parole con il giusto approccio questa sorgente d'acqua è in grado di lavorare su in sul nostro sul nostro umore cioè andare andare lì ed immergersi in queste acque con la giusta chiave di lettura e significa trasmutare la rabbia e il risentimento che abbiamo perso i nostri simili in un qualcosa di pulito veramente interessante questa questa cosa e poi saltiamo all'hotel mediterraneo accorto l'hotel mediterraneo accoglie una sorgente d'acqua che ha un interessante compito le energie creatrici in grado di svilupparsi in quest'acqua vanno a favore del ricordo ovvero il ricordo di ciò che realmente siamo per natura esseri divini queste acque agiscono quindi sulla nostra parte dormiente ci fanno prendere coscienza di cosa realmente siamo allora saltiamo invece al sorriso terme resort sempre al cuoto anche qui anche qui le acque sono in linea con il messaggio dato precedentemente con le acque dell'hotel mediterraneo ovvero tra tralasciando i lavori di luce di cui abbiamo già parlato anche queste acque sono in grado di di permettere un ci permettono di far emergere il nostro ricordo ovvero queste entità ci permetteranno l'entità l'acqua l'entità che governano quest'acqua con il giusto approccio ci permetteranno di ricordare le nostre vere origini ossia esseri divini in grado di creare a beneficio del creato manifesto l'acqua tra l'altro continua dicendo che l'essere umano è divino per natura è in grado di riacquistare il ricordo grazie alle energie creatrici trasportate in terra dalle mie acque d'amore nulla viene chiesto in cambio ovviamente passiamo appresso abbiamo l'imperial park l'imperial park così come le acque dell'hotel villa teresa sempre al cuoto sono acque in grado di lavorare sulla nostra gioia di vivere e sull'equilibrio possibile tra il nostro corpo e il nostro spirito in questo caso quindi le due acque hanno specificatamente hanno espresso in maniera molto chiara la possibilità di poter lavorare sulla nostra sul nostro senso di gioia in questo caso gioia di vivere è ovvio che la gioia la gioia di vivere è in grado di sviluppare energie a favore dell'amore universale e ma soprattutto dell'amore per i nostri simili è una cosa molto importante quindi come potete vedere leggendo questo libro sia anche una specie di guida per approcciare alla meglio le sorgenti e le acque più congeniali al nostro essere poi ci spostiamo verso verso citara un luogo già in tempi antichi però semplicemente dedicato a venere citare la citarea è legata a numerose numerose guarigioni di cui ci sono arrivate testimonianze da quei tempi remoti di questa di questo luogo noi andremo a considerare le acque del poseidon perché perché le acque del poseidon ci regalano un un importante un importante informazione ovvero sono in grado di trasformare i nostri corpi in tre manifestazioni divine un po un po particolare questo messaggio non molto chiaro però come come ci tengo a precisare i messaggi sono stati tutti quanti riportati fedalmente siamo in grado di entrare in contatto con il vostro io la vostra parte divina e porvi in contatto con lui siate consapevoli che le mie acque sono legate a venere quindi a venere alle le sue energie tutto ciò che gira dietro questa questa figura trasmutata poi in un in una in una figura antropomorfa quindi poi gli è stato dato gli è stato dato forma umana però è una cosa molto molto importante il fatto che queste acque sono in grado di metterci in contatto con la nostra parte divina penso che tutti quanti voi siete andati ai poseidon ovviamente per una questione di per approcciare al meglio queste acque è ovvio c'è bisogno di tranquillità c'è bisogno di introspezione c'è bisogno di meditazione quindi basta scegliere la piscina o comunque il luogo che più vi attrae energeticamente dal mio punto di vista il posto il posto migliore è quello vicino la sauna o meglio ancora nella sauna dove è possibile fare delle bellissime meditazioni passiamo avanti vediamo un po la prossima acqua la prossima acqua è l'acqua 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 di pielero di cui oggi abbiamo parlato in ischia occulta l'acqua di pielero sgorga nella da una fontanina da una sorgente nell'omonima contrada a fuorio di ischia questa è un acqua molto importante perché sebbene ad oggi è ancora abbandonata a se stessa non c'è una pulizia effettiva delle delle vasche di decantamento a comunque che ci regala comunque energia altissima quindi ciò fa capire che c'è qualcuno che la protegge e quest'acqua espressamente ha ci ha confermato di poter lavorare sui nostri chakra sia principali che secondari ed è chiaro che a beneficiarne poi saranno i nostri meridiani energetici all'interno del nostro corpo tutto ritroverà il giusto equilibrio a favore di un corretto flusso energetico e questa è la sorgente di pielero e poi ritornare a verso in direzione l'h- quindi lasceremo alla nostra sinistra la zona dove risiedono le stufe di san lorenzo e ci porteremo verso il parco termale nigumbo una volta il dottor d'aloisio quando quando studiò questo importante medico iscritano quando iniziò a a studiare le sorgenti del di acqua dell'isola dischia a fini curativi lui attribuiva la attribuiva questi poteri di guarigione a uno spirito elastico minerale così fecero anche i suoi coetanei non è che andavano non è che avebbero tanto torto poi alla fine solo che erano persone che avevano una erano più vicini alla verità rispetto a noi ormai la nostra scienza ha perso completamente di vista queste queste importanti informazioni si pensa a curare il corpo ma non lo spirito eccetto qualche daro caso che di cui con la quale fortunatamente siamo in contatto allora il parco del male negumbo inutile fare qualche premessa su questo su questo fantastico luogo lo conoscete lo conoscete lo conoscete un po tutti il parco del mare negumbo ha una storia bellissima ci sono delle pubblicazioni bellissime da leggere a riguardo la sua storia come abbiamo espressamente detto prima in pre in nella nella nota introduttiva noi ci siamo affidati al a un libro intitolato il giardino del negumbo del 2014 della botticelli è un libro dove tra l'altro troviamo una curiosa informazione colui che che iniziò a costruire il parco del il parco del del negumbo quel duca silvestro camerini lo faccio lo fece grazie alle sue doti da rabdomante ed è una tecnica che veramente una tecnica incredibile che che fatta bene regala veramente delle sorprese interessanti immaginate poi questa questa persona incredibile che ha dato vita ad un parco così bello con con due bacchette in mano o con una bacchetta biforcuta alla vecchia maniera vuol dire che sapeva cosa fare cosa cercare ma soprattutto era era al corrente ne sono sicuro delle energie presenti in quel luogo anche perché quel luogo da nostri studi paralleli ci ha regalato numerose informazioni tra l'altro è serie di importanti energie quel luogo lì sorgeva anche per la necropoli della vecchia pitecusa non possiamo neanche parlare di di energie telluriche perché ne sono talmente tante che vanno a confluire in quel luogo che il luogo stesso lascia pensare che quelle antiche genti lo scelsero di proposito per seppellire i propri cari e ciò non deve spaventare perché perché la stessa acqua specificarcelo quando quando ci regala il suo messaggio d'amore ovvero eh nei secoli nelle nelle genti del luogo nelle genti del luogo hanno lavorato energie creatrici in questo luogo umane entità trassero spirituali benefici e trovarono potenti energie grazie alle quali trovarono riposo le anime di coloro che abitarono questi luoghi quindi un'energia a tutto favore dell'essere umano del suo trapasso ma anche del suo barcare la soglia quindi non è possibile generalizzare questo questo concetto con parole così povere noi dobbiamo soltanto ringraziare quest'uomo che ha che è stato in grado di di trovare queste queste polle d'acqua e di credi e di poter dar vita a un parco così bello poi 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 per non perdere altro tempo perché ci sono ancora parecchi argomenti di cui parlare facciamo un salto avanti e richiamoci verso le terme regine sabella già famose a livello internazionale non solo per i numerosi film che ci hanno girato ma anche per la sua storia legata a rizzoli ma anche e soprattutto per le numerose e numerosi personaggi pubblici che lasci che la scelgono come residenza durante le loro vacanze e la calcola qualcosa ci ci ha fatto riflettere nel momento in cui quest'acqua ci ha regalato un messaggio d'amore nella quale specifica di essere in grado tra le altre cose di poter lavorare sul nostro apparato vocale interessantissimo quindi vuol dire che il suo il suo lavoro è il suo lavoro è voluto effettivamente da entità superiori da volontà superiori e che non non sono assolutamente frutto del caso in grado quindi di lavorare sul nostro apparato vocale e ci vogliono quasi a volerci dire che la loro importanza all'interno di una struttura alberghiera famosa proprio per le numerivoli celebrità che la scelgono per le loro vacanze non sia frutto del caso cioè la sorgente è lì è in grado di svolgere questo compito quindi inconsciamente diciamo inconsciamente la gente questi personaggi famosi la scelgono come propria meta ma si dovrebbe sapere che la parte il lavoro spirituale in grado di che loro sono in grado di svolgere su di noi è quella legata all'apparato vocale perché l'apparato vocale perché non solo sul piano materiale sappiamo che l'apparato vocale è in grado di produrre suoni e quindi rendere famose determinate persone ma sul piano spirituale possiamo ricordare che il verbo il verbo si è fatto carne ovvero noi con la voce possiamo creare anche le vibrazioni le vibrazioni vanno influire sul nostro ciò che ci circonda quindi non è un concetto strampalato ciò che riceviamo sul piano materiale è possibile riceverlo anche sul piano spirituale andiamo avanti e andiamo all'hotel terme di augusto sempre alla camino allora queste acque ci ricordano che la consapevolezza attiva il processo di trasformazione energetica nei nostri corpi spingendola verso tutti i piani costituenti l'essere l'essere umano il ricordo di ciò che per natura realmente siamo perso all'atto della nascita può essere attivato entrando in queste acque in piena consapevolezza quindi abbiamo trovato un'altra acqua in grado di risvegliare la nostra parte dormiente un'acqua quindi in grado di farci ricordare chi siamo e cosa siamo in grado di fare andiamo avanti la prossima acqua è l'acqua delle terme michelangelo quindi stiamo discendendo la contrada fango alla camino cosa dicono queste acque che queste acque ci ricordano che la creazione in continua espansione e ciò grazie ad ogni essere vivente impossibile quindi pensare anche solo lontanamente che l'essere umano possa essere un qualcosa di inerte in questo meraviglioso meccanismo cioè immaginate quindi interrogare una sorgente d'acqua e di ricevere messaggi di questo genere non abbiamo alcun dubbio con chi da chi sono sono ci sono pervenuti questi messaggi poi il turno del hotel grazia terme che come voi ben saprete è rimasto chiuso a causa del terremoto del 2018 allora però l'acqua in questo caso ci rassicura perché ci tiene a precisare oltre nel suo messaggio d'amore che gli eventi devono fare il loro corso è una frase che dovrebbe far riflettere ognuno di noi soprattutto per a chi ha a chi ha vissuto in prima persona gli eventi di cui stiamo parlando parliamo ovviamente del terremoto ma anche ma anche quelli che lo hanno hanno preso parte a questo disastroso evento in disparte tutti noi siamo stati chiamati a nuove esperienze c'è stato molto da imparare e siamo convinte che ischia si sia riscoperta unita come solo un'unica entità senziente può esserlo quindi il fatto che l'hotel grazia le acque dell'hotel grazia scelsero di scelsero di andare in riposo pur essendo ancora presenti e prendendo prendendo quel disastroso evento come come occasione vuol dire che c'è tutto un meccanismo da portare avanti una volantua superiore e poi sapete che quel sisma comunque aperto il cuore di molti di molti schitani quindi come dice l'acqua effettivamente è un'esperienza che andava fatta però sono ancora lì e ci hanno rassicurato che ritorneranno quindi vuol dire che l'hotel grazia riaprirà in un futuro allora vediamo un po un altro importante ecco qua siamo arrivati allo termo nausica allora anche in questo caso le acque specificano che in esse si possono trovare forze rigeneranti e vita spirituale qui con questo messaggio con questa frase forze forze rigeneranti troveremo forze rigeneranti potremmo andare un po in confusione tuttavia bisogna capire che ci stiamo avvicinando a piazza bagni sede della dell'acqua del burcitello e quindi queste forze rigeneranti acquistano significato perché effettivamente tutte le sorgenti d'acqua che sono nei pressi di piazza bagni sono tutte quante accomunate anche dal fatto di poter essere sono in grado di rigenerare il nostro corpo un nostro corpo fisico ed anche poi quello spirituale però in questo caso la sorgente è famosa proprio per il fatto di risucchiare la stanchezza e abbiamo abbiamo avuto modo di parlare con persone che hanno eh che hanno fatto questo genere di esperienza alcuni ci hanno detto che orientandosi in direzione nord sud questo eh questo particolare fenomeno legato all'acqua del burcitello sembra amplificarsi quindi eh fate anche voi questo esperimento eh oltre a arrecarvi in in una di queste vasche che erano legate a questo luogo piazza bagni e quindi farlo in maniera particolare di come stiamo del resto parlando approcciate queste anche acque anche allineandovi in direzione nord sud e siamo quindi arrivati all'acqua del burcitello quindi qua c'è molta storia da molta storia da ricordare eh Giulio Iasolino addirittura eh specificava che quest'acqua ristora gli uomini quasi consumati conforta lo stomaco cava la pietra eccetera eccetera quindi era già famosa ai tempi di Iasolino ma era anche già in età classica ehm vediamo un po' di di passare direttamente a qualche cosa di più particolare quindi abbiamo detto che l'acqua del burcitello è in grado di azzerare la fatica e la risucchia ad essere più preciso quindi questa è una delle caratteristiche principali di quest'acqua eh ovviamente intorno all'acqua del burcitello ci sono tutta una serie di sorgenti più o meno importanti anche secondarie sorgenti dimenticate ehm il Grablovitz in una sua pubblicazione eh specifico che sotto questo nome si designano numerosi abbondanti sorgenti che sgorgano nella piccola valle di Ombrasco sul versante settentrionale dell'epomeo allora ehm noi per sviluppare questa pubblicazione abbiamo abbiamo fatto prima una ricerca storica molto capillare abbiamo fatto un elenco di tutte le sorgenti d'acqua che sono apparse eh in nella in quasi tutte le pubblicazioni conosciute in questo settore riguardanti l'isola d'ischia e poi abbiamo avviato le nostre ricerche quindi il lettore non deve meravigliarsi se all'interno di questo di questo libro troverà anche sorgenti d'acqua dimenticate o poco note come per esempio la sorgente la sorgente dei denti eh che al tempo di Iasolino sgorgava di rimpetto la porta principale eh vediamo un po' se ve lo posso specificare vabbè in tempi più recenti siamo nel sul nella intorno alla metà del diciottesimo secolo quest'acqua di questa sorgente dei denti era stata inglobata nella nel vecchio Piemonte della misericordia e nello stesso fabbricato poi eh venne inglobata anche l'acqua della della sabbia quindi sono sorgenti d'acqua che avendoci donato i loro messaggi d'amore ci hanno in pratica detto che esistono ancora quindi qual è il succo il succo è che bisogna prendere consapevolezza di trovarsi su un'isola sacra dove esistono dei luoghi sacri e in questo caso delle sorgenti d'acqua sacre con in grado di svolgere importantissimi compiti ma bisogna prendere consapevolezza del fatto che sono lì e vanno valorizzate cioè quindi eh c'è bisogno di persone consapevoli di ciò che iniziano a rintracciarle iniziano a renderle fruibili iniziano a fare un importante lavoro sul territorio fino ad oggi a parte qualche raro caso impotente purtroppo di queste persone così zelanti non ne abbiamo trovate non ne conosciamo ehm per quanto riguarda l'acqua della sabbia ehm e l'acqua che specifica dicendo che nelle mie acque furono placati ricordi voraci che alimentano energie negative creavo creavo barriere nei loro sogni cioè immaginate che l'essere umano che durante la giornata eh viveva delle esperienze negative o comunque che gli facevano nascere il rancore in corpo queste acque erano in grado di lavorare su questa su questi episodi ma lo potevano fare erano in grado di fare di fare questo lavoro anche nei sogni perché eh spesso questi queste esperienze negative vanno a influire sui nostri sogni con tutte le con tutto ciò che poi ne scaturisce quindi vedete quanto era importante questa sorgente d'acqua arriviamo alle terme veliazzi eh procediamo per con le acque del cappone o dello stomaco ci sono poi le le terme manzi che in questo caso saltiamo perché grosso stiamo in pratica parlando sempre del della stessa della stessa acqua anche se poi ci sono delle polle d'acqua dimenticate che hanno dei compiti di supplementare passiamo poi a parlare dell'acqua del dell'argento l'acqua dell'argento ci ha regalato un un messaggio e di conseguenza è ancora presente nella nostra dimensione terrena tra l'altro dice prima o poi tutti voi sarete chiamati a fare un passo avanti lascerete vecchi schemi andrete alla ricerca della verità capirete di dovervi lasciare alle spalle secoli di menzogne più chiaro di così non si può ed eccoci ed eccoci raggiunti vediamo un po' saltiamo tutte queste queste sorgenti d'acqua alle terme maltempo le terme maltempo le terme maltempo sempre in zona piazza bagni con il loro messaggio d'amore ci ci hanno fatto ci hanno detto esplicitamente eh che voi che noi nelle loro acque troveremo quello per il quale abbiamo chiesto di nascere ovvero saremo in grado con la giusta chiave di lettura di ricordare il perché siamo stiamo vivendo questa incarnazione quale compito abbiamo scelto di portare avanti quindi immaginate l'importanza di questa di questa di quest'acqua non è un un qualcosa di poco assolutamente oltre poi ovviamente ad azzerare la fatica e a a rendere il nostro corpo materiale rinvigorito siamo sempre là siamo sempre in zona piazza bagno stessa cosa anche per quanto riguarda le terme elisabetta ex terme scioli stesso identico messaggio siamo al cospetto di un'acqua in grado riportare a gale ricordo di ciò che eravamo in epoche passate nella nostra attuale esistenza terrena quindi ci permetterebbe di ricordare il necessario attenzione che ci possiamo siamo destinati a ricordare tutto di tutto ciò che eravamo il necessario affinché possiamo riprendere di nuovo la consapevolezza del compito che ci siamo prefessati in questa esistenza saltiamo ancora avanti e giungiamo giungiamo alle all'hotel gran paradiso l'hotel gran paradiso è un accoglie una sorgente ed acqua in grado di riportare a galla i nostri ricordi e qui quindi siamo di nuovo al cospetto di un'acqua con questa particolare caratteristica incredibile come a casa micciola siano concentrate tutte queste acque di così di questo così grande spessore andiamo avanti un po allora siamo adesso alle stufe del cacciotto al riguardo di queste stufe noi ci siamo appoggiati alla alla guida d'ischia del cervera è una guida dove ci sono molte informazioni al riguardo di questo luogo segno che all'epoca secolo scorso ci si poteva ancora accedere ancora fruibili tra l'altro è anche è anche interessante riportare il messaggio la parte importante del messaggio l'amore ricevuto da queste stufe perché e questo è questo 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 messaggio in questo messaggio apparve questa frase questo luogo è frutto di naturale trasformazione ma ridate memoria la mia casa cioè sono proprio loro che chiedono di poter essere di nuovo fruibili al pubblico per poter svolgere alla meglio il loro compito andiamo avanti andiamo avanti e siamo alle terme comunali di fornello e fontana quelle che praticamente un tempo erano di fronte al palazzo reale a ischia c'è tutta una storia che riportiamo al riguardo di questo di questo luogo e sebbene sebbene di queste due sorgenti possiamo avere un possiamo avere una un'idea secondo la quale sono da considerare come un'unica sorgente sul piano materiale sul piano spirituale non lo sono affatto perché l'acqua del fornello a differenza a differenza della dell'acqua di della fontana ha chiaramente specificato di essere in grado di lavorare sulle nostre intuizioni e questo e questa caratteristica poi la ritroveremo anche in altre sorgenti termali in zona saltiamo l'hotel terme aragona palace e dirigiamoci verso le acque dell'hotel terme re ferdinando dove incontriamo una sorgente d'acqua in grado anch'essa di operare sul nostro intuito specificano queste acque che è una è questa facoltà indispensabile per capire dove indirizzare le giuste energie trasportate in queste acque forze vitali e troverete necessario per portare nei vostri cuori quello che realmente è necessario ecco quindi spiegato grazie al messaggio delle terme re ferdinando il lavoro che svolge anche l'acqua precedente quindi immaginate con una guida del genere dove e cosa siete in grado di fare girando per ischia ripetiamo non c'è nessun'acqua secondaria sono tutte quante importanti però la differenza la fa il vostro essere il vostro sentire siamo arrivati alla sorgente mirtina è una sorgente molto discussa oggigiorno perché sembra che lavori edili svolti male abbiano abbiano permesso a questa sorgente di non sgorgare più non è che la sorgente ha voluto questa assolutamente però il fatto che abbiamo ricevuto il loro messaggio d'amore ci fa ben sperare e quindi siamo possiamo sperare di trovare questa sorgente in un altro luogo la sorgente mirtina un tempo era all'interno della della pineta l'isola d'ischia quella che che sta alle spalle del corso vittoria colonna quindi nel centro storico dell'isola d'ischia ed era molto famosa quest'acqua perché ha ricevuto numerosi premi è stata studiata molte persone molti studiosi molti molte personalità eschitane del del diciannovesimo ma anche del ventesimo secolo hanno 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 affrontato lo studio delle di questa di questa sorgente tra l'altro la sorgente ci regala un messaggio d'amore nella quale specifica che al suo interno nelle nelle sue acque è possibile trovare ritrovare uno spirito rinnovato e nelle mie acque possibile trasformare i vostri umori sono sono le mie acque a permettere cambiamento interiore nelle mie acque è possibile cambiare il vostro stato mentale ponete energie in queste acque è un'acqua di gioia a tutti gli effetti e ovviamente non è che è possibile immergersi nelle sue acque qualcuno in vecchie pubblicazioni disse che le acque le acque di questa sorgente mirtino un tempo erano convogliate con dei canali costruiti appositamente verso le le terme fornello e fontana giù al porto non sappiamo se effettivamente era così o c'è stato un errore ma comunque al giorno d'oggi non è possibile beneficiare di quest'acqua speriamo in un prossimo futuro ed eccoci poi all'hotel terme mare blu l'hotel terme mare blu siamo sempre nel comune di ischia è un'acqua importante e ci ha saputo donare un messaggio d'amore ricco di informazioni è il contatto con la nostra scintilla divina che incuriosisce e da buon ragione rende quest'acqua degna di nota cioè è l'acqua stessa che specifica di essere in grado di creare un contatto con la nostra scintilla divina basta solo la consapevolezza il giusto approccio e poi arriviamo all'hotel d'europa siamo quindi sempre in direzione in direzione schiaponte il messaggio ricevuto da queste da queste acque è stato molto chiaro gioia amore sono i doni che si potranno ricevere se la giusta consapevolezza albercherà nei nostri cuori tutto porterà al ricordo di chi siamo immaginate quindi di poter espandere il nostro nostro amore il nostro essere immateriale grazie a queste acque la gioia e l'amore sono dei doni importantissimi per permetterci un corretto risveglio quindi di approcciarci quanto prima la creazione del del creato manifesto arriviamo al parco verde siamo allora il parco verde siamo sempre siamo sempre a ischia il parco verde praticamente ci regala un messaggio dove specifica che nelle sue acque c'è la possibilità di poter intervenire sulle intuizioni ed ecco quindi ritorniamo alle caratteristiche delle altre delle altre acque quindi sembra che ci sia un legame invisibile che li lega giungiamo poi all'hotel terme felix l'hotel terme felix nel suo messaggio d'amore specifica che umane entità necessitano ricordare la loro natura in queste acque che ricorderete nuovamente chi siete voi in queste acque sarete creatori in terra entrate con consapevolezza in queste acque sono vive in esse energie creatrici trasportate in terra grazie a volontà superiori voi in queste acque sarete portati a ricordare entrate con consapevolezza e troverete il necessario per portare in terra luce e amore entrerete e riceverete il mio amore quindi sono sono acque che per volontà superiore lavorano su di noi e lo fanno senza chiederci nulla in cambio la consapevolezza non è una moneta da pagare quindi è importante tenerlo a mente e poi ci richiamo ci richiamo nel comune di barano dove incontriamo nuovamente le acque di nitrodi sulla quale abbiamo abbondantemente parlato soprattutto in ischi occulta e che noi in questo caso ricordiamo essere sede di uno dei cinque raggi delle sorgenti schitane sono cinque sono cinque le sorgenti energetiche schitane l'acqua di nitrodi e l'elemento acqua la sorgente energetica in grado di lavorare sul nostro sull'elemento acqua all'interno di ognuno di noi oltre poi a lavorare sul chakra del cuore a livello planetario quindi immaginate che lavoro incredibile riesce a fare e lo fa grazie a tutta una serie di entità preposte a questo lavoro in quel luogo rimando comunque il lettore interessato o alla pubblicazione in questione trattato spirituale sulle acque dell'isola d'ischia o al prossimo libro di cui parleremo ossia nitrodi esoterica è un piccolo libro libricino estrapolato da questo e da ischi occulta dove parleremo esclusivamente di nitrodi poi in ultimo in ultimo abbiamo l'acqua di buceto anch'essa al centro di eventi poco felici allora l'acqua di buceto quindi con questo abbiamo concluso l'acqua di buceto attualmente energeticamente sta soffrendo molto quindi il fatto che essa soffre energeticamente non fa ben sperare ci siamo recati più di una volta in presso la sua sorgente e non l'abbiamo trovata certo in buone condizioni è un'acqua che praticamente un tempo la si poteva prendere direttamente giù alla fontanina fiaiano mi hanno detto che è stata riaperta quella fontanina ma fin quando i valori energetici di quest'acqua non ritorneranno normali io non mi azzarderò a prenderne neanche un nitro poi c'è una seconda sorgente d'acqua nel bosco dove c'è un dove c'è il famoso gabbiotto con il pavimento crollato quindi che bella presentazione e poi basta seguire le le vasche di decantazione fino all'interno della montagna dove è possibile trovare alle spalle dell'ultima dell'ultimo gabbiotto di decantazione una piccola la sorgente vera e propria cioè possiamo possiamo già notare che siamo nel posto giusto quando salendo sulla sinistra troveremo una piccola porticina metallica spalancata da cui esce questo piccolo fiumiciattolo che va che che si inoltra all'interno della montagna la temperatura è bassissima un tempo questo luogo questi luoghi erano avevano una persona apposta che si recava lì e faceva pulizia erano erano altri tempi quando ancora c'era gente che amava l'isola e spiritualmente parlando l'acqua comunque ci ha regalato un bellissimo messaggio d'amore quindi è ovvio l'acqua c'è non è non è assolutamente morta richiede soltanto attenzione e amore allora la parte importante del suo messaggio è questa ad ogni interazione sono risvegliate quelle parti del vostro cervello che donano voce al risveglio trasportate i vostri corpi presso di me ad ogni contatto troverete quello che il vostro corpo ha perso nelle umane reincarnazioni c'è questa anche questa è un acqua del risveglio vuol dire che è in grado di portarci possiamo dire sul giusto binario nel momento in cui la approcciamo costantemente allora con l'acqua di buceto abbiamo completato la lettura delle parti più importanti di questo libro in questo libro non troverete gli esperimenti effettuati grazie alle particolari acque dell'isola d'ischia durante le apparizioni di zaro di cui abbiamo già parlato ricordo che l'acqua non mente non è bugiarda può regalare soltanto amore e consapevolezza e questo è un discorso che va amplificato sull'isola d'ischia quindi l'acqua se approcciata nel migliore dei modi o con quanta più consapevolezza è possibile sempre relativamente al nostro essere regala veramente grandi emozioni ed è un valido mezzo per per approcciare determinate situazioni quindi io vi ringrazio di essere stati qui con me se qualcuno di voi ha qualche domanda può farla liberamente non ci sono problemi sono sono qui apposta in quanto la presentazione del libro è terminata il libro ad ischia è possibile reperirlo presso la mondadori di ischia dall'amico antonio che vi ripeto è l'unico l'unico posto in cui è possibile trovare le mie pubblicazioni a ischia oppure è possibile ordinarla online o possibile ordinarla online su qualsiasi piattaforma sono distribuite ovunque amazon ebay non ci sono problemi di nessun tipo allora vediamo un po innanzitutto salutiamo tutti quelli che sono rimasti collegati con noi cinzia ci chiede se azzaro ci sono acque allora cinzia azzaro non mi risultano acque sorgive nel momento in cui qualcuno ci dirà che esistono acque sorgive a noi sconosciute possiamo effettuare un'analisi alla nostra maniera quindi capire cosa abbiamo di fronte ovviamente molte molte sorgenti d'acqua li abbiamo lasciate indietro cioè non li abbiamo non li abbiamo parlato anche perché non c'è stato possibile recarci presso di esse non abbiamo oppure non abbiamo reperito la giusta quantità di informazioni storiche c'è bisogno di un contesto generale per poterli approcciare quindi poi per quanto riguarda gli alberghi ecco noi ne abbiamo citati nel nostro libro tantissimi c'è c'è un indice veramente c'è un indice di ben cinque pagine ricco di alberghi strutture alberghiero ovviamente se c'è qualche albergatore che ha la necessità o comunque la curiosità di avere informazioni sulle proprie acque sorgive oppure ha servite la propria struttura basta chiederci noi saremo ben felici di far di dargli informazioni poi si hanno effettivamente è un libro che scritto con il cuore cioè noi dobbiamo capire dove viviamo l'isola ha bisogno di tanta consapevolezza amore non ha bisogno di di cancri di tumori l'isola assolutamente l'isola ha bisogno di essere viva bisogno di di energia ha bisogno che ognuno di noi fa che ognuno di noi faccia la sua parte quindi è veramente importante prendere consapevolezza del mondo in cui viviamo fatemi capire se possiamo chiudere o se avete altre domande vediamo un po sì questo sì cinzia questo è il nostro il nostro esperimento tra l'altro effettuato in diverse occasioni e con diversi nostri amici l'acqua portata azzaro durante la le apparizioni perde tantissima energia diventa un acqua quasi morta e ci vogliono ore affinché riprenda la sua naturale energia abbiamo utilizzato poi delle acque a cui abbiamo applicato degli scudi energetici e fortunatamente questi scudi energetici hanno hanno funzionato quindi noi abbiamo abbiamo effettuato questi esperimenti nel corso degli anni più di quattro cinque volte tutti quanti abbiamo avuto gli stessi durante i quali abbiamo tutti gli stessi risultati quindi l'acqua non mente possono mentire le persone ci può essere suggestione tutto quello che volete il contentino le guarigioni tutto quello volete ma le acque non mentono non ti preoccupare domanda dovuta cinzia e niente penso non ci sono altre domande giusto vediamo un po lasciamo il tempo al alla diretta di aggiornarsi poi per qualsiasi altra curiosità noi siamo siamo a disposizione no mi sembra che non ci siano altre altre domande grazie a voi di essere stati in diretta qui con diretta qui con me vediamo potete fare un'altra sfogliata nel caso in cui ci siamo dimenticati qualche cosa no mi sembra mi sembra di no no lo so che è difficile recarsi in uno di questi uno di queste strutture alberghiere e approcciare queste queste acque in maniera in perfetta solitudine o come vorremmo noi in tranquillità in meditazione eccetera però si può sempre si può sempre tentare e si può sempre approcciare queste queste acque in orari diversi da dai soliti e comuni orari si può approcciare di sera di pomeriggio tardi come come ad esempio a cavagrado quando finirà questa emergenza speriamo di di poterci riappropriare dell'isola ok allora grazie a voi io vi saluto come sempre vediamo vi darò comunicazione di quando faremo la prossima diretta dove parleremo esclusivamente di nitrodi lo faremo con una piccola pubblicazione estrapolata da questo libro dei da ischi occulta ok grazie a tutti vi vi auguro buona serata alla alla prossima presentazione